In alto, come vedete, guardate, è sopra in relazione, cioè non potendo costruire fuori dall'isola. Questo film, Pup Critic, sarà uno dei documenti più significativi di questi giorni, ricchi di incontri, ricchi di spettacoli e che produrranno anche un oggetto estetico in cui la critica seriamente, non propriamente, si critica, ma fa di più, si rappresenta. Pup Critica Palto, Critic Pup Critic Pup Critica Pup Critica Pup Critica Critica te stesso Ecco, detassazione totale Per tutte le imprese che lavorano con la cultura Ha detto che ho zoomato tutta, ora Ha zoomato Ma che animale sarà? Stavolta l'artista, l'assegno dell'artista Bello, no? Guardi che bello, tutti allegri Facini, facini al tuo momento Credimi Mi fai accendere Il tuo momento Rete critica Svegliamoci, facciamo rotonde per l'artista Va bene? Basta essere rotonde nelle strade Un sinni po' chiudi, finirà la verza siniscia Rete critica E poi l'ultima proposta, Ministro Braille Le la diciamo proprio vis a vis Noi la invitiamo ad aprirsi Rete critica Critica Te stesso E' una cosa tosta, no? A bella proposta Scudo a rete critica Rete critica per tutti C'è un posto di rete critica Per rete anche tu Rete critica Però se lo deve meritare eh Perché guardi Noi siamo proprio una cassa Eh, va bene Questo solo per farvi vedere come siamo ridotti a girare film, che la produzione cinematografica non ci ha dato al solito manco un bicchiere di polpice di fritti e quindi siamo anche così. Ovviamente ce lo dobbiamo girare, girando festival dobbiamo girare pure il film.